Ben trovati, quello di ieri mattina è stato un pessimo risveglio per Cagliari e per la Sardegna intera, per il tributo di quattro giovani vittime pagato dalla città, da tutti noi, alle nuove stragi del sabato sera. È il momento del dolore, certamente, non ci sono ricette, bisogna solo capire in quale maniera metabolizzare e in quale maniera affrontare un problema che non è nuovo, è un problema che ormai è datato più di 20 anni ed è legato alla possibilità che giovani e non si mettano alla guida dopo una serata trascorsa durante giusti divertimenti, dove si cerca di trovare sollievo dopo magari una settimana di studio, di lavoro, di impegni e di stress. C'è il problema appunto del rientro, c'è il problema dell'alcol, c'è il problema della guida, c'è il problema della stanchezza perché molto spesso anche solo questo, nelle prime ore del mattino, può essere la causa di eventi tragici di questo tipo. Non ci sono ricette facili, ma non possiamo nemmeno condannarci o rassegnarci all'ineluttabilità del fatto che queste cose accadano e del fatto che una percentuale di persone che trascorrono il venerdì o il sabato sera a divertirsi debbano poi pagare il tributo della vita. Abbiamo necessità di fermarci, ripeto, non ci sono ricette né semplici né semplicistiche. Recentemente un ministro ha proposto di noleggiare dei taxi per le persone che non sono in grado di guidare, ma questa non è una soluzione facilmente applicabile anche perché ne servirebbero migliaia e i taxi non bastano nemmeno per le necessità di tutti i giorni, come vediamo. Ne riparleremo dopo naturalmente un periodo di doverosa riflessione. A presto.